benvenuti in questa guida top 7 trappole per mosche di consiglio pro tra questi 7 abbiamo individuato il migliore il consigliato quello con il migliore rapporto qualità prezzo oltre che 5 valide alternative non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace ma partiamo subito al settimo posto troviamo zoma bio trappola cromotropica zoma bio trappola cromotropica è una trappola ecologica per mosche che rispetta gli impollinatori e cattura gli insetti infestanti come mosca mosca dell'olivo calabroni tafani vespe e cimici la trappola è dotata di una ricetta attrattiva che funziona alla grande la consiglio a chiunque abbia problemi con le mosche punteggio 80 punti info in descritt sesta posizione al sesto posto troviamo quota 4 pezzi trappola per queste trappole per mosche sono una soluzione eccellente per tenere lontane le mosche dal tuo giardino sono di grande capacità facili da montare resistenti alle intemperie funzionano bene e sono un ottimo modo per mantenere il tuo giardino libero da mosche fastidiose punteggio 80 punti info in descrizione quinta posizione al quinto posto inseriamo fito bio trappola mosche con questa trappola per mosche è un'ottima soluzione per tenere lontane le mosche l'esca inclusa è molto efficace e la trappola è facile da montare funziona bene e dura a lungo ottimo prodotto punteggio 87 punti info in descrizione quarta posizione al quarto posto non poteva mancare bsi trappola per mosche professionale questa trappola per mosche professionale è un ottimo prodotto funziona bene e cattura rapidamente le mosche la costruzione è robusta e durerà a lungo il prezzo è ragionevole e ne vale la pena lo consiglio vivamente punteggio 83 punti info in descrizione terza posizione nel nostro podio inseriamo schmitz trappola per mosche 4 questa trappola per mosche è un ottimo prodotto è facile da montare ha una grande capacità e può essere appesa all'esterno funziona molto bene ed è una soluzione efficace per tenere lontane le mosche dal giardino dalla cucina e dalla casa lo consiglio vivamente punteggio 85 punti info in descrizione seconda posizione al secondo posto consigliamo schmitz trappola per mosche 4 questa trappola per mosche è un ottimo prodotto è facile da montare e ha una grande capacità quindi può catturare molte mosche in una volta la trappola è anche resistente alle intemperie quindi può essere utilizzata all'aperto senza preoccupazioni punteggio 91 punti info in descrizione prima posizione vince la classifica tre pezzi trappola per antimosche queste tre trappole per mosche sono una soluzione pratica ed efficace per tenere lontane le mosche da interni ed esterni sono facili da usare sicure e non tossiche sono anche resistenti all'acqua e possono essere utilizzate in cucina giardino o altri ambienti punteggio 90 punti info in descrizione non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al canale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti